Si muove, e non poco, anche il mercato in uscita in Casavellino ha diversi elementi da piazzare che non rientrano nel progetto tecnico di Massimo Rastelli. Giuseppe Guanagni è partita alla volta di Porto Recanati. Il calciatore ex paganese proseguirà la sua stagione tra le fila della Recanatese. Si trasferisce con la formula del prestito. Si fa sempre più probabile il passaggio di Marco Geretta in prestito alla Viterbese, anche se Renate non molla. L'Andrea Sbraga fuori squadra è sempre nel Minino del Trento, ma piace anche al Navara, società in cui ha già giocato, dove ritroverebbe il direttore sportivo Moreno Zebi. Per quanto riguarda Claudio Mikoschi si sta provando a chiudere il prestito al Taranto. Gennaro Scognamichio, altro giocatore ai margini, piace sempre al Giuliano di Antonio Modio. Per Tommaso Ceccarelli è corso a due al momento tra il Picerno ed il Monterosi, con i Lucani sempre favoriti. Così come Francesco Forte piace al Monterosi, anche se al momento è il giocatore meno certo di partire. Daniele Franco è pronto a partire con la formula del prestito verso la Turris, ritornando così alla sua vecchia squadra. Bisognerà capire come e quando si evolverà la situazione di Jacopo Murano. Il Potenza vuole riportare l'attaccante a casa, ma al momento l'operazione non sembra essere facile, in quanto il suo delizio Lugano ha chiesto aiuto ai lupi. Il calciatore piace fortemente anche al Monopoli.